ben ritrovati qui su macatech tutto è pronto per andare a unboxare questo Gretel dentro ne abbiamo due di Gretel a dir la verità andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta oggi ne vedremo uno e successivamente nei prossimi giorni vedremo l'altro vado ad aprire subito questo pacco che arriva da Gearbest quindi direttamente dalla Cina con furore è arrivato tutto in modo tranquillo senza alcun tipo di problema ovviamente vi lascerò poi il link in descrizione eventualmente per l'acquisto eccolo qui il Gretel a7 e il Gretel a9 due telefoni della casa cinese Gretel forse molti di voi non la conosceranno effettivamente è abbastanza piccola è una piccola società all'attivo penso abbia 4 o 5 telefoni attualmente quindi è davvero agli inizi andiamo a vedere però questi due telefoni Gretel a9 e Gretel a7 sono telefoni ovviamente di fascia bassa direi di partire dalla 9 che è quello più interessante quello più corposo quello che ha caratteristiche migliori andiamo ad aprire la scatola vediamo un po cosa contiene ovviamente c'è il telefono che vedremo tra pochissimo vediamo un po cosa contiene la scatola insieme beh ovviamente contiene il minimo indispensabile in quanto è un telefono da 70 euro già vi dico il prezzo davvero molto molto basso il prezzo 5 volt 1 ampere è il caricabatteria abbiamo il cavetto usb micro usb ormai classicissimo la spilletta per andare aprire il carrellino delle dual sim come vedremo infatti il telefono è un dual sim qua abbiamo la solita guida quick start per andare a avviare il telefono e usarlo agli inizi e poi abbiamo anche una pellicola da applicare eventualmente al display per andare a proteggerlo cosa che peraltro noi non faremo sicuramente ok vado a tirare fuori adesso il Gretel A9 devo dire che già il peso mi sembra abbastanza importante se riesco ad aprirlo senza disfarlo ovviamente è importante sì perché guardate qui abbiamo già anche applicata una cover in silicone vediamo se riesco a toglierla eccola qui guardate è qui trasparente anche di buona qualità diciamo ottima questa notizia vado a tirare via la pellicola frontale vado a rimuovere anche la pellicola posteriore vediamo se la facciamo senza troppe imprecazioni questa è sempre la parte più difficile nell'unboxing eccola qui ce l'abbiamo fatta invece guardate qui che bellino che è questo Gretel A9 vi dicevo 70 euro da Gearbest con la spedizione Italy Express se non avete alcun tipo di problema vi arriverà a casa vostra abbiamo come materiali alluminio per quanto riguarda la parte posteriore la ricezione di queste due bande invece che sono in plastica ovviamente è fatto per migliorare la ricezione delle due antenne che sono appunto nascoste qui dietro abbiamo un peso di 164 grammi circa devo dire che in mano si tiene bene non è grande abbiamo un 5 pollici di display intanto vado a accendere vediamo un po' se si accende ok si è acceso che fortuna abbiamo una larghezza di 72.8 mm più in altezza di 146.6 mm uno spessore di 8.7 mm e devo dire quindi che in mano si tiene abbastanza bene è un po' cicciottello non è finissimo però il fatto che sia un 5 pollici e un 72 mm insomma con la mano media si terrà abbastanza agevolmente in mano abbiamo poi come caratteristiche principali beh a parte dell'alluminio sia nel frame laterale che nella cover posteriore abbiamo sul lato destro il carrellino delle due SIM non è il volume quindi anche qui piccola differenza dagli soliti smartphone abbiamo poi il tasto di accessione e spegnimento sul lato sinistro ovviamente invece troviamo il volume quindi è ribaltato rispetto allo standard sotto non abbiamo niente abbiamo il microfono vedete eccolo qui sopra abbiamo il jack delle cuffie da 3.5 mm e la micro usb per andare a ricaricare il telefono micro usb che supporta anche OTG e vediamo un po' come funziona adesso insieme le prime schermate di questo Gretel A9 già come potete vedere però il display vabbè è economico il telefono ci sa però non è molto olofomico guardate già quante impronte ha catturato è vero che c'è anche una pellicola addosso che probabilmente non aiuta non aiuta in questa situazione andiamo ad usare subito la luminosità al massimo vediamo un po' come si vede questo Gretel A9 più impressioni? beh è un vizio in mano si tiene abbastanza bene quindi da questo punto di vista mi sembra ben concepito un po' economico sentite i tasti come vibrano sì effettivamente si nota che non è di grandissima qualità però devo dire che tutto sommato non è male la sua figura diciamo la fa soprattutto se non si va proprio nei dettagli abbiamo poi la fotocamera qui dietro che è praticamente allineata alla cover posteriore abbiamo il flash led qui a fianco la fotocamera da 8 megapixel che poi verranno interpolati a 13 megapixel il sensore della Samsung 3H7 e qui a fianco vi dicevo appunto flash led sotto abbiamo la scritta Gretel sotto qui non abbiamo nient'altro se non l'attoparlante di sistema qui piccolo in basso a destra davanti invece abbiamo il flash anche qui davanti quindi potrete fare dei selfie apocalittici per un momento probabilmente però come tutti i flash frontali illuminerà pochissimo su questi telefoni low cost abbiamo poi la capsula auricolare e a destra abbiamo la fotocamera da 2 megapixel che interpolata arriverà a far foto fino a 5 megapixel ok abbiamo detto un po' tutto le caratteristiche principali intanto vado ad accendere il wifi giusto per vedere come si comporta la prima connessione alla rete ovviamente adesso mi cavo fuori per mettere la password ok eccolo qui connesso alla rete in velocità devo dire ha catturato il segnale wifi abbastanza velocemente abbiamo android 6.0 andiamo a vedere un po' infatti dentro nelle opzioni del telefono che versione monta l'android per sicurezza comunque vi anticipo già che è android 6.0.1 vedete eccolo qui però Gretel ha promesso ad aprile e quindi dovrebbe già esserci android 7 su questo Gretel 9 quindi che non fosse stato uno scherzo ad aprile magari era il primo aprile quando l'ha detto fatto sta che attualmente ancora non c'è android 7 per questo telefono vedremo magari se successivamente effettivamente manterrà la promessa vado a vedere se ci sono aggiornamenti online lo facciamo insieme no niente vedete non c'è nulla di nuovo sistema operativo free meos nella versione che vedete sta scorrendo in sovraimpressione vi dicevo il telefono è un dual sim effettivamente qui abbiamo il carrellino due nano sim supporto del 4G con anche la banda B20 quindi anche quella degli 800 MHz questo dovrebbe far contenti tutti coloro che hanno wind ovviamente espandibili di memoria all'interno abbiamo 16 GB di memoria interna espandibili ovviamente di tipo EMMC 5.0 memoria espandibile vi dicevo però tramite micro SD rinunciando a una nano sim fino a un massimo di 32 GB come RAM poi abbiamo 2 GB a 640 MHz ok 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 abbiamo visto un po' le caratteristiche principali mi dimenticavo però di dirvi la cosa più importante c'è il SOC è il classico Mediatek Low Cost abbiamo il 6737 Quad Core Cortex A53 sono 4 i Core Cortex A53 a 64 bit con frequenza di clock 1.3 GHz vedete intanto come si comporta nelle prime battute questa FreeMeOS l'abbiamo già vista in altri telefoni abbiamo le solite icone della FreeMeOS andiamo a vedere se c'è qualche personalizzazione infatti vedete abbiamo già installato le applicazioni che vabbè ovviamente sanno da giornale molto probabilmente in sistema abbiamo sicuramente anche il System Manager per andare a gestire il telefono andremo a vederlo sicuramente in dettaglio nella recensione vedete però già in prima battuta per migliorare la memoria liberare la memoria bloccare numeri di telefono fastidiosi eccetera 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 andiamo a vedere un po' come si comporta nell'apertura di Chrome facciamo così subito al volo il test ovviamente qua adesso mi dirà di accettare qualsiasi cosa andiamo sul sito non voglio inviare a Google niente per stavolta tanto già sa tutto di me corriere.it ok ho sbagliato scrivere vedete la tastiera non ha un feedback in questo caso che mi ha consentito di sentire esattamente cosa stavo premendo probabilmente sarà da attivare o meglio andremo a installare magari un'altra tastiera lo vedremo vabbè Donnarumma per chi è milanista sarà contento che non ha rinnovato il contratto ovviamente sto scherzando io che di calcio praticamente non capisco niente vedete come scorre abbastanza lento ma non lentissimo vi ricordo comunque che è un telefono da 70 euro e si comporta abbastanza bene tutto sommato andiamo a chiedere però il sito desktop abbiamo poi l'armali T720 quindi anche come rendering certamente non abbiamo soluzione al top però è un telefono di fascia bassa quindi ci aspettiamo che abbia qualche piccolo scatto qualche micro lag qualche lag anche piuttosto grosso comunque linea di massima vedete per essere il primo test in assoluto che stiamo facendo insieme non sembra affatto male sotto abbiamo tre tasti abbiamo il tasto opzioni qui a sinistra il tasto back a destra e tasto fisico centrale qui al centro tasto fisico centrale che nasconde anche un lettore di impronte che andremo sicuramente a configurare andiamo a vedere infatti nelle opzioni un po' cosa ci aspetta abbiamo le classiche impostazioni Android Marshmallow quindi non ci aspettiamo grandi cose abbiamo la luminosità adattiva che andiamo subito ad attivare regolabile poi anche di fino abbiamo il Miravision per andare a terrare i colori quindi molto bene ok poi abbiamo le solite varie opzioni vediamo nella batteria ok si solite cose niente di nuovo andiamo a vedere in sicurezza eccolo qui infatti la gestione dell'impronta digitale andiamo a registrare un'impronta insieme vediamo un po' come funziona così in prima battuta ok bisogna mettere un pin ovviamente per andare a registrare l'impronta nel caso di blocco effettivo infatti dovrete rimettere il pin ok andiamo a registrare l'impronta vediamo un po' posizioniamo il dito in vari modi intanto sta dando una piccola vibrazione anche per farmi capire che è stata presa ok facciamo solo un dito per ora vediamo un po' altre opzioni che abbiamo ok smart lock abbiamo la possibilità di andare a sbloccare il telefono in modo smart ossia avvicinando una sorgente fidata tipo bluetooth oppure siamo nelle vicinanze di casa cose solite che abbiamo già intravisto nelle versioni di android 6.0 abbiamo visto come registrare quindi l'impronta adesso andiamo insieme a vedere però effettivamente come funziona vado a spegnere metto l'impronta non l'ha preso non l'ha preso ok non l'ha preso vediamo se per caso la prima volta mi richiede il pin riproviamo di nuovo ok adesso l'ha preso vedete i tempi di sblocco vado a posizionare 1 2 3 ok rifacciamo 1 2 3 ok vedete il dito lo riconosce abbastanza bene devo dire poi lo proveremo a fondo nella nostra settimana di test lo sblocco però ovviamente non è fulminio ma devo dire che ci comporta tutto sommato bene abbiamo la fotocamera della fremio s ciao a tutti i ragazzi da mac i tech ci vedremo presto con la recensione di questo super telefono facciamo una foto beh super si fa per dire ovviamente andiamo a vedere i tempi di messa a fuoco non rapidissimo non rapidissimo scatto anche in questo caso scatto devo dire non rapidissimo non rapidissimo foto che tutto sommato a primo impatto non mi sembra malissimo dai diciamo è accettabile è certo che questa pellicola che è applicata sopra rende tutto un po' più sviadito è tutta già piena di impronte non si vede praticamente più nulla ovviamente l'andremo a togliere appena finiremo questo unboxing la batteria è da 2300 mAh come wifi abbiamo 8211 a bgn bluetooth 4.0 abbiamo poi ovviamente gps a gps non c'è l'nfc ci mancherebbe altro prossimità luminosità e accelerometro gravità sono presenti vediamo se c'è la radio fm eccola qua si c'è quindi c'è anche la radio fm ovviamente dovete mettere le cuffie all'interno del jack da 3.5 per sentire la radio perché le cuffie faranno da antenna abbiamo poi il supporto agli otta come abbiamo visto però non ci sono attualmente ancora aggiornamenti quindi aspetteremo un po' cosa deciderà di fare gretel aspettiamo ovviamente android 7.0 andiamo nei setting di nuovo vediamo se c'è qualcos'altro che ci siamo persi no direi che più o meno sono tutte le cose essenziali cosa che non vedo sono le gesto smart tipo il doppio tap vediamo un po' se è già implementato in automatico no vedete non c'è alcuna funzione di risveglio con il doppio tap lo vedremo magari in dettaglio magari è nascosta dentro nei meandri di qualche menu però a primo impatto sembrerebbe non esserci quindi che dire ragazzi questo gretel 9 è un telefono sicuramente dalle aspettative basse è un entry level quindi non possiamo aspettarci grandi cose però come materiale devo dire non è affatto fatto male è abbastanza piacevole da tenere in mano dalle prime sensazioni che abbiamo gira abbastanza bene ovviamente è prestissimo per dirlo non abbiamo praticamente fatto ancora nulla però in linea di massima mi sembra che giri abbastanza fluido però ovviamente attenderemo la nostra recensione completa per dettagliarvi proprio in merito a questo per questo unboxing è tutto ovviamente tra qualche giorno faremo anche l'unboxone del suo fratellino gretel a7 intanto vi faccio già vedere le caratteristiche quali sono magari vi le metto anche a fianco a7 e a9 in modo da vedere vediamo se riesco a non disfare tutto così già potrete fare un primo raffronto tra i due telefoni per questo unboxing è tutto ci rivedremo presto col gretel a7 ovviamente anche con un altro telefono ubico che presto vedremo su questo canale per questo unboxing è tutto vado a provare questo gretel un saluto da Matteo e da gretel a9 per mechitec ciao ciao